Ripple mi fa schifo. Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video ed è quello di cui mi state, alcuni di voi mi stanno scioccamente accusando nei commenti qui sotto perché sono due giorni che non parlo di Ripple e dell'enorme pump che ha avuto sul mercato delle criptovalute, pump tra l'altro totalmente indipendente dall'andamento di Bitcoin. Allora ragazzi, voglio prepararvi questa, non una serie di video, ma due video in cui vi voglio parlare di Ripple, di cosa penso, perché non dimenticatevi mai una cosa, a me, come dico sempre, bisogna ragionare da trader, almeno io ragiono da trader perché faccio trading e sono un trader, quindi non mi affeziono alle cose, non mi faccio guidare esclusivamente dalle mie opinioni. Se c'è un'opportunità di trading io ovviamente la seguo e la devo perseguire, anche se quello su cui sto investendo mi fa schifo. Perché vi sto dicendo questo? Perché Ripple, ragazzi, nel panorama della criptovaluta, è una criptovaluta particolare perché è una criptovaluta centralizzata e potete dire quello che volete che non è centralizzata, che invece è decentralizzata, che se Ripple azienda fallisse il token comunque rimarrebbe vivo. Potete dire quello che volete che è esattamente quello che dice il CEO di Ripple, ma la verità è che Ripple è centralizzata, la verità è che Ripple controlla i vostri wallet, può impedire, fermare, stoppare, cancellare le vostre transazioni, ok? Quindi che cosa c'è di più centralizzato di questo? È esattamente come quando quello che accade con una banca, ecco perché Ripple è così amata dalle banche. Ma vi sto dicendo questo perché ci sono aspetti dal punto di vista speculativo molto interessanti invece su Ripple, che per me Ripple non è il male, non è che Ripple la schifo, è semplicemente una criptovaluta ed un progetto centralizzato, un progetto che viene portato avanti come un'azienda, perché è un'azienda, ok? Ripple è un'azienda con sede in California, è un'azienda che sta facendo tantissimi accordi, ha accordi con più di 120 banche, già stanno utilizzando Xcurrent, già stanno facendo transazioni e stanno sperimentando, quindi viene portata avanti, a differenza di tanti altri progetti che latitano un po' perché non hanno una governance chiara, perché sono progetti open source ovviamente, e quindi stanno, Ripple è portata avanti molto bene, sta stringendo accordi su accordi, non sempre purtroppo sul mercato viene presa bene questa, o necessariamente abbiamo un risultato direttamente proporzionale agli accordi, alle notizie di analisi di aspetto fondamentale che abbiamo sul mercato. Però Ripple sta facendo davvero tanto e lo sta facendo bene. Questo vuol dire che dobbiamo investire Ripple? Questo vuol dire che Ripple mi fa schifo e non ci investo? No ragazzi, state fuori, fuori strada, ok? Sono un trader e come trader porto a fare due tipi di considerazioni, una considerazione di carattere tecnico, e quindi guardo il grafico, una considerazione di carattere fondamentale, e quindi guardo gli aspetti fondamentali. Ripple sta facendo bene, Ripple adesso dice che lancerà il prossimo mese, è pronto a lanciare XRapid, che sostituirà XCurrent, e poi c'è il progetto Cobalt che aumenterà ancora di più, o meglio diminuirà le performance, i timing di transazioni, portandoli ad un secondo. Ragazzi, non ci prendiamo in giro, Ripple dal punto di vista di tempo di transazione è probabilmente la più veloce, credo di poterlo dire senza commettere errore, scrivetelo qui nei commenti se faccio un errore, ha la velocità di transazione maggiore, in due o tre secondi, il battito delle palpebre, in due o tre secondi le transazioni vengono portate a termine, è capace di reggere 1500 transazioni al secondo, sul sito internet, se andate a leggere, ne dichiara 50.000 addirittura, che è in grado di leggere, e progetti come Cobalt e XRapid non faranno altro che aumentare, ovvero diminuire, aumentare le performance e diminuire quindi questi tempi di attesa. Essendo centralizzata, si è sposata e ha trovato particolarmente supporto e utilizzo all'interno di sistemi finanziari come le banche. Quindi da questo punto di vista, poi c'è il progetto Xspring, il progetto di investimento su aziende che investono in XRP, quindi, insomma, sta muovendosi bene, e negli ultimi giorni, che cosa è successo? Perché c'è stato questo pump dell'80%, credo, 70-80%, credo, abbia fatto ad oggi Ripple, adesso lo andiamo a vedere sul grafico, perché ha proprio annunciato che è pronta a lanciare XRapid. Quindi ragazzi, mi piace, non mi piace, ci credo, non ci credo, è del tutto ininfluente, è del tutto ininfluente quello che io, come trader, penso di Ripple. Se c'è un'opportunità su Ripple, sono il primo ad investire. E vi dico un'altra cosa, per quelli che hanno scritto, Marco non parla di Ripple perché non ci ha investito niente, cioè, ragazzi, state fuori strada. Perché io e Ripple, l'ultima volta che ho comprato Ripple è stato tra settembre e ottobre del 2017, quella è stata l'ultima volta che ho acquistato Ripple. Di Ripple ne ho una caterva, ragazzi, caterva, perché vi ricordate a quanto stavano a quell'epoca? Stavano tra i 0,12 e 0,14, credo l'ultimo Ripple di averlo comprato a 0,17 o 0,18. Capite bene che ha quei prezzi. E poi non l'ho più ricomprato. Se mi chiedete, Marco, dal punto di vista tuo, personale, Ripple è una cripto che ti piace? Bene, se ho sempre detto che credo al mercato delle criptovalute come ribellione al sistema economico, finanziario attuale, estremamente centralizzato, beh, vi devo dire che no, non mi piace Ripple. Se me lo chiedete da trader, Marco, investeresti o hai investito in Ripple? La risposta è ci ho investito. Se mi domandaste, ci investirai adesso? Cioè, se non ci avessi investito, pensi di ci investiresti ancora in questo momento? Probabilmente la risposta sarebbe no. Adesso a 0,80 vicino al dollaro? Assolutamente no. Ma questa è la mia opinione personale, non è un consiglio finanziario. Come tutti quelli che sentite sul mio canale, dovete ragionare e fare i compiti a casa e ragionare con la vostra testa. Andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo sul grafico di Ripple, ragazzi. E fatemi sapere che cosa ne pensate voi. So che Ripple divide praticamente l'ecosistema, la community delle criptovalute, delle persone, degli utenti che sono all'interno delle criptovalute perché c'è chi la odia e la distruggerebbe e chi invece la adora e pensa di diventare ricco con Ripple. E poi nel mezzo ci sono quelli come me, probabilmente, che sono dei trader e non si fanno drogare dalle proprie opinioni personali, che vanno a caccia di opportunità, ok? Opportunità speculative, ovviamente. Quindi, per quanto mi riguarda, se c'è un'opportunità su Ripple la percorro, cosa che ho fatto a settembre-ottobre del 2017. Oggi non lo rifarei più a questi prezzi, ma a quei prezzi è stato un ottimo affare e per ora me li tengo. Ragazzi, andiamo, vi lascio al grafico, noi ci vediamo prestissimo. Lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Buon trading a tutti, ciao! Allora, eccoci qua ragazzi, andiamo a vedere, prima di tutto, facciamo un attimo un rapido riassunto su quello che sta succedendo sul mercato delle cripto in generale. Allora, la market cap si è posizionata a 220 billion dollar, ci avviciniamo, ma con un po' di lentezza a dire la verità, a quella che era la soglia importante, una struttura importante a 250 billion dollar, forse ve lo ricordate, ne abbiamo parlato più volte, ve la faccio vedere qua, si è formata forte nell'ultimo anno. Guardate, vedete questa struttura qui che ha agito da supporto e da resistenza parecchie volte, soprattutto da supporto a dire la verità e qui ultimamente invece adesso da resistenza. Ci stiamo riavvicinando, vediamo ancora quanto tempo mancherà. La dominance di bitcoin, visto che rimane comunque sopra al 50%, anche se scende perché siamo al 52%, quindi è scesa un pochino. Che cosa fanno le cripto? Allora, nelle ultime 24 ore bitcoin è praticamente ferma, si è posizionata sopra i 6.600, Ethereum ha fatto un bel più 3%, sta a 234, è ovviamente Ripoli il protagonista, ragazzi, degli ultimi 3-4 giorni dal punto di vista almeno di movimento di mercato. Bitcoin Cash perde qualcosina dopo aver fatto bene negli altri giorni. Stellar che aveva fatto, vedete, questa grande impennata, scende anche lei e si porta a una perdita del 5,75%, anche Cardano 5,75%, Litecoin è praticamente fermo sui 58 dollari, Monero meno 1%, Dash quasi meno 4%, Yota è fermo, Tron fa il meno 2%. Quindi il weekend inizia sicuramente con un rallentamento rispetto a quello che abbiamo visto nelle precedenti giornate e ore. Allora, ragazzi, cosa succede qua sul Ripple? Guardate qui che grafico, è veramente spaventoso, guardate lo spike di questa candela, qui c'è stata una speculazione feroce che ha portato praticamente dalla chiusura, e quindi dallo 0,55 dollari a toccare i 0,80 dollari. Ragazzi, parliamo in punti percentuali, adesso ve lo dico con precisione, non di pochissimo, parliamo di una speculazione del 40%, quindi nella giornata di ieri c'è stata una speculazione del 40%, guardate anche la candela di oggi, per ora è una candela Doji perfetta, vedete? Eccola qui, guardate, questa è una candela Doji da manuale, lo sapete la candela Doji che cosa indica sul mercato? Indica profonda incertezza ed insicurezza, dopo la speculazione ci sta. Vorrei farvi notare una cosa, ieri vi avevo fatto vedere sul grafico, ve l'avevo fatto vedere su questo grafico qui, vi avevo detto che c'era, non retta orizzontale ma semiretta, c'era questa struttura qui su cui il prezzo poteva un attimo rallentare, struttura che poi è stata distrutta ed è come è stata distrutta anche quest'altra, quest'altra area che avevo disegnato, ve la ricordate, l'area che praticamente passava dai 0,45 arrivava ai 0,52 e poi avevo detto, infine c'è una terza struttura che Ripple potrebbe sentire, che era quella media a 200 periodi ed era anche la soglia psicologica a 0,5 dollari. Beh, ieri, andiamo a vederlo qua sul 4 ore, ieri Ripple ha rotto tutto, cioè ha bucato, ha fatto breakout di tutte quante quelle strutture, però, ragazzi, attenzione ad una cosa, dovete far caso a quello che adesso si sta formando, perché dopo la grossa speculazione che cosa c'è? Beh, di solito c'è un rallentamento, c'è una correzione del mercato, il mercato ha già corretto, perché ha praticamente perso, rispetto ai massimi di ieri, ha perso il 40%, lo vedevamo prima, quindi potrebbe già esserci stata una correzione, ma potrebbe non essere finita qui, e comunque la correzione, vedete che sta riportando il prezzo in quest'area qui, adesso siamo a 0,56, quindi siamo un po' sopra, insomma, vedete come il prezzo risente, torniamo qui sul giornaliero, andando a vedere il giornaliero, vedete come effettivamente il prezzo si è riavvicinato alla media 200 periodi, quindi non mi sorprenderei se dopo questo grande pump ci sia una stabilizzazione del prezzo, che possa magari utilizzare come supporto quest'area indicata con questo rettangolo rosso, prima magari di fare due movimenti, e nessuno può dire quali di questi due movimenti fare, ragazzi, cioè se andare a rialzo o se rompere e tornare su quest'area. Ovviamente anche per i miei investimenti spero che Ripple ormai abbia ricreato come base di supporto questa qui, quella sopra allo 0,50, quindi al mezzo dollaro, almeno tra lo 0,45 e il 0,50, che magari la usi, non voglio dire che adesso torni e rimbalzi di prepotenza, ma magari usi questa base come supporto, quindi non scenda più sotto questo livello e possa infine solo crescere. Crescere dove potrebbe andare ad incontrare una nuova struttura? Beh, lo vediamo, sicuramente la struttura maggiore la incontrerà qui, su questi livelli qua, che sono prossimi al dollaro, quindi grande soglia psicologica, vi direi, eccola qui. E c'è però anche una struttura minore qua, intorno ai 0,70, la vedete? Ve l'ho segnata, vedete che qua agita come resistenza, prima come supporto e poi come resistenza, qui ancora come resistenza, quindi questa è una struttura forse minore, ma sempre di struttura parliamo. Quindi, secondo me c'è questo canale all'interno del quale il prezzo si può per un po' andare a incastrare, ma come dicevo in apertura, Ripple, ragazzi, è un progetto solido portato avanti da un'azienda solida, e quindi ci sono all'interno dell'azienda ottimi sviluppatori, ho avuto modo anche di parlare con alcuni di loro, di interloquire così via internet con alcuni di loro, quando c'è dietro un'azienda, il vantaggio di un progetto centralizzato è che dietro la governance è di un'azienda, è come nell'informatica, il motore di ricerca Google che usiamo, Amazon lo store che utilizziamo, o il flash player quando c'era Adobe, quando c'era l'Adobe flash player in macromedia, il PDF ancora, quando c'è un'azienda dietro a una tecnologia, la governance è più semplice, ok? E se l'azienda è strutturata, è solida, è robusta, è logico che il progetto viene portato avanti con una visione molto più chiara e precisa di progetti invece sulla blockchain che non hanno una governance precisa, e che quindi risentono di momenti di rallentamenti, momenti di indecisioni perché per raggiungere il consenso, perché c'è più democrazia no? Un'azienda non è democratica, in Ripple chi decide è il management, il CEO è il management, il futuro di Ripple, non è così per Ethereum, Bitcoin dove invece deve essere raggiunto un consenso prima di procedere in una direzione, questo porta via tempo, quindi è ovvio che Ripple su certi fronti andrà più veloce. La cosa difficile da dire oggi è se veramente un progetto in blockchain che è centralizzato invece di essere decentralizzato possa rappresentare il futuro, ok? Questo è veramente difficile dirlo, ma come vi dicevo all'inizio, Ripple sta facendo bene, sta chiudendo accordi, e andiamo a vedere anche un po' qui le notizie di analisi fondamentali di Ripple, secondo me le cose su cui bisogna concentrarsi, che bisogna tenere d'occhio, ne ho parlato in apertura, X-Rapid, Cobalt, X-Spring eccetera, andiamola a vedere, ve le faccio vedere un po' qui andandole a prendere come notizie, no? Perché dal punto di vista di accordi Ripple sta facendo bene, vedete questa è stata la notizia che ha fatto pompare il prezzo, una notizia che ha detto che è pronta Ripple a lanciare da qui a un mese, ad andare live con il suo X-Rapid product, ok? E che, diciamo, sostituirà X-Current, che è già utilizzato da 120 banche. Quindi andare un po' a vedere, a leggervi poi l'articolo per se volete approfondire che cos'è X-Rapid, come funziona dal punto di vista tecnico e tecnologico. E poi vi ho parlato di Cobalt, Ripple Cobalt, che è una prossima implementazione per permettere di abbassare ancora di più i tempi di transizione. I tempi di transizione che adesso, ragazzi, Ripple è in grado di gestire, e lo ha dimostrato, almeno 1500 transazioni al secondo, il sito dice 50.000, tutto da dimostrare però ancora, e ci mette per ora 2, 3, 4 secondi a transazione. Con Cobalt si passerà ad un secondo, ok? Per una transazione cross-border, quindi diventa sicuramente la coin più veloce sul mercato. E poi c'è Expring, il progetto di investimento su start-up e aziende che stanno basando la propria attività, il proprio business e i propri progetti sul token XRP. Quindi, insomma, vedete che sta facendo tanto, se cercate Ripple News sulla rete ne trovate sempre, sempre, sempre tante. Qui la domanda che bisogna farsi è, ok, di notizie sul Ripple positive ne escono, ne stanno uscendo e ne sono uscite. Perché ieri c'è stato questo grosso pump? Secondo me questa è la domanda più interessante che bisogna farsi in questo momento. Quella risposta deve dirci tanto, ok? Perché? E questo ragazzi non possiamo saperlo noi, perché secondo me non... Soprattutto in questo momento storico non è quella notizia che per noi retail, investitori retail, poteva, diciamo, giustificare questo grosso movimento, ok? Quindi c'è qualcos'altro dietro, qui sono entrati grandi investitori. Andiamo a vedere, guardate, vi faccio vedere i volumi, guardate qua che cosa ha fatto di volumi. Guardate, questi volumi fanno impressione. Da qui, vedete, ci sono ancora volumi ben al di sopra della media, anche oggi i volumi sono ancora, ancora alti. Ragazzi, teniamola d'occhio, fatemi sapere che cosa... O meglio, già lo so che me lo farete sapere nei commenti qui sotto, perché già so chi dirà Ripple to the moon, c'è chi dice Ripple arriverà a un milione, Ripple arriverà a centomila, Cioè, ci sono due o tre persone che sono fedeli sostenitori di Ripple, ma come al solito, ragazzi, con la fede nei mercati finanziari non si arriva da nessuna parte. La prima cosa che un trader deve imparare è ad essere oggettivo. Motivo per cui, anche se non sono un fan dal punto di vista teorico di Ripple, non mi faccio fuorviare dalle opportunità che questo mercato, che questo progetto mi offre. Sono due piani completamente diversi, quindi attenti a non fare l'errore inverso, però, cioè quello di avere una fede cieca, ok? Perché, ripeto, la fede va bene per alcune cose, ma non va bene per i mercati finanziari, non vi farà arrivare da nessuna parte. Ragazzi, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!